La lotta del Signore non è contro gli uomini ma contro il demonio. Gesù viene a trasformarci da prigionieri e oppressi in ministri di misericordia e consolazione. Nella Basilica Vaticana, gremita di sacerdoti che nel Giovedì Santo hanno rinnovato le promesse fatte al momento della propria ordinazione, Papa Francesco si è soffermato ancora una volta sul tema della misericordia del Signore, infinita e ineffabile, invitando tutti ad accoglierla con dignità che sa vergognarsi. Gesù infatti non combatte per consolidare uno spazio di potere, ma per riversare sulla terra questo torrente, una misericordia in cammino che ogni giorno cerca il modo di fare un passo, avanzando sulla terra di nessuno dove regnano l'indifferenza e la violenza. Nel corso dell'Omelia il Pontefice ha sottolineato due ambiti nei quali il Signore cede nella sua misericordia, quello dell'incontro e quello del perdono, perché non solo perdona debiti incalcolabili, ma ci fa passare direttamente dalla vergogna più vergognosa alla dignità più alta, senza passaggi intermedi. Papa Bergoglio ha poi invitato i sacerdoti a uscire dai recinti, scegliendo di stare con il popolo scartato e riconoscendo quella cecità che deriva da un eccesso di teologie complicate. Sentiamo che la nostra anima se ne va assetata di spiritualità, ma non per mancanza di acqua viva, che beviamo solo a sorsi, ma per un eccesso di spiritualità frizzanti, di spiritualità light. Ci sentiamo anche prigionieri, non circondati come tanti popoli di invalicabili mura di pietra o di recensioni di acciaio, ma da una mondanità virtuale che si apre e si chiude con un semplice clic. Siamo oppressi, ma non di minacce e spintoni come tanta povera gente, ma del fascino di mille proposte di consumo che non possiamo scrolarci di dosso per camminare, liberi sui sentieri che ci conducono all'amore dei nostri fratelli, al Grece del Signore, alle pecorelle che attendono la voce dei loro pastori.